Proprio partendo dallo svenimento di Biontè, dopo la prova, quindi abbiamo un padro di famiglia appunto che sviene, all'inizio piange, proprio ci sono le lacrime, diciamo, dei pizzicati in orchestra, poi è costretto a fare questa prova, ritrova il coraggio sempre mosso dall'amore, poi sviene perché accusa il colpo, ecco, noi dobbiamo descrivere dei personaggi, carne d'ossa, non delle icone, non dei simboli. Arnold è vero, qua viene impersonificata con Diego Flores, che non ha bisogno di presentazioni, sappiamo tutti che voce ha, sappiamo tutti come canta, però Arnold è un innamorato, è uno che nel primo atto canta l'amore per la sua donna. Continua a cantare l'amore per la sua donna, quanto c'è Biontè e cerca di fargli capire che le cose non stanno andando poi così bene e che lui deve fare qualcosa, non può continuare così. Nel secondo atto arrivano Dion e Walter, un po' come i due crociati della lumina che nel terzo atto vanno da Rinaldo cercando di riportarlo sulla terra, facendogli capire quelli che sanno i suoi doveri. E appunto gli devono uccidere il padre per fargli scattare una molla. E che cosa fa? L'eroe Arnold, per tradizione l'eroe, quello che spacca con i decidi, piange. L'orchestra è in pianissimo, sotto voce, piange, e piange, la morte di padre. Poi c'è questa cabaletta, che probabilmente è la cosa meno interessante forse del terzetto, che è sublime nella prima e nella seconda parte. E poi si arriva l'aria, ecco lì l'aria è oggettivamente difficile, ma non è difficile per Juan Diego Frodo, è difficile per qualsiasi tenore vivente sulla terra. Senza dover fare un'eccesione, senza dover fare un disco, ma cantandola dal vivo. Più o meno, qua si parla come, no, le maratone, più o meno verso la quarta, dopo la quarta ora, più o meno, non quarta ora e mezza, no? Con un'orchestra che non è che lo raddoppia, lo sestubbica, perché quella scrittura dell'aria non è presente in nessun'altra pagina dell'opera. Lui ha fiati, tromboni, corni, trombe, o tutti che fanno esattamente quello che fa lui. Non si è mai visto, non si è mai visto. Chiaramente, a prescindere da questo, è sempre dovere, chiaramente, il direttore trovare il giusto base, chiaramente, ma il problema non è la natura vocale. In questo caso c'è proprio una difficoltà oggettiva che viene da una scrittura orchestrale. Poi chiaramente uno può dire, eh, vabbè, però se ha scritto quello vuol dire che voleva quella voce lì. Sì, è vero, però se avesse voluto quella voce lì uno che sa scrivere per le voci come Rossini, come pochi altri, allora si è dimenticato per tre ore prima e ha scritto per un'altra voce, no? Quindi, poi chiaramente, sono tutte considerazioni che è bene anche che siano soggettive, però, insomma, noi si crede in questa scelta e l'abbiamo, e l'abbiamo portata fino in fondo. Non so, posso concludere, c'è un aspetto, un altro aspetto che mi ha molto colpito e sempre affascinato di quest'opera, è il fatto che ci sono delle rappresentazioni che Rossini fa, di piccole storie all'interno di una grande storia. La grande storia è il tema della libertà, cioè il tema della libertà, e allora la dignità, riscattare i propri diritti, le proprie ragioni, e se ne è già parlato, però all'interno di questa grande tematica ci sono i singoli drammi, e Rossini, mi è sempre affascinato come Rossini descrive questi drammi, come Rossini descrive questi affetti, le relazioni, perché a Rossini, io sono convinto che non siamo interessato più di tanto il sentimento in sé, il rapporto in sé, allora c'è il duetto d'amore, no, quanto tutto quello che c'è di contorno, cioè tutte le complicazioni che rendano vivo il sentimento. Allora, il primo duetto Arnaudio, come ho detto prima, lui canta l'amore, ma come te lo mette Rossini? L'amore, quello che lui esprime, è un rigetto che lui ha di risposta al martellamento che gli fa Diontel, quindi diventa una conseguenza. Poi c'è il grande duetto d'amore, ma quello che rende affascinante il duetto non è tanto l'amore a te lo due, quanto è l'impossibilità di questo amore. E quest'anno si fa in fondo di concerto una bell'angue, una bell'angue che io poi ho diretto due mesi fa, capolavoro, è forse l'unica opera che si avvicina di più a Diontel come carattere, come atmosfere, e Rossini nel primo anno ha scritto un duetto che è una mezzola, penso, che è uno, a parerio dei più bei duetti d'amore che ho scritto, fra Elena e il re travestito, o uno dei più bei duetti d'amore, perché ha un duetto d'amore, ma non è che loro si incantano l'amore, com'è questo amore? Lui ama lei, lei non ama lui, però un fascino lo subisce e c'è già un abisso. Poi lei, poi arriva al coro di Niba Cadonzella, anche lì un po' come il primo colo del bionterro, un colo, o sono io una persona triste, ma non mi ha dato mai grande, sempre un inquietudine, perché dirà un inquietudine? Poi lui viene a capire che lei trova si è sposonato e mi dice, ah ma allora tu hai nato, già è inesima complicazione, e lei mi risponde, ma credere a che gentilezza, puntini, come dire, ma io se non sarò solo gentile, potesse che voi uomini che equivocate, basta che una donna sia gentile, voi pensate solo che si voglia andare a letto, no? Ecco, però lei è innamorato di Nasto, però c'è questo coro, e nel coro mi viene a sapere che lei è dal pato e provvessa sposa a un terzo, che è Rodrigo, quindi capite com'è follo e tutto, e io già ne dimentico che è diventato un buetto d'amore, no? Però è uno dei più bei buetti d'amore che lo scrive, proprio perché lui riesce a sviscerare un rapporto, decomponendolo, e tutto ciò che sarebbe di contorno diventa in realtà l'elemento indispensabile, quello su cui ci fa cadere l'attenzione, e probabilmente è questo che rende Rossini un grande compostore, e per tutto quello che si è detto, rende quest'opera un capolavoro, proprio perché non c'è un sentimento, non c'è un filo rosso, è un'opera che è difficile da afferrare come probabilmente è difficile da afferrare a Rossini stesso, e quel senso di, come dire, di, non dici questo senso di dover per forza essere ciò che non si è, probabilmente lo ha vissuto anche Rossini stesso, nel dover scrivere in un linguaggio che non era il suo, motivo per cui poi lui abbandona tutti, però come i grandi, e penso che esalta lo sport, il vero grande è quello che lascia al massimo, perché poi tutti ci si ricordano di questo, mentre quando poi si continua, magari, poi la cosa brucia è che noi pubblico, noi siamo tutti in grado, quindi poi ci si ricordano sempre le ultime cose che magari sono meno belle, e lui ha lasciato proprio quando era al top, e questo è stato un gesto con i grandi o no staff intellettuali verso se stesso che lo rende ulteriormente grande. Grazie a tutti!